Che tra l'altro sono usciti anche dei gameplay nuovi di Dragon's Dogma e hanno fatto vedere del gameplay da stregone e da guerriero, con lo spadone a due mani, ne ho visti alcuni, mi hanno fatto cascare le palle, ma ripeto, non tanto per il gameplay di per sé, ma perché li fanno fare, Dio Cristo, e sembra veramente che Capcom vuole far vedere il tipo che il gioco sia brutto, gente che non credo l'abbia mai toccato Dragon's Dogma. Cioè io ho visto invece poi un altro gameplay che è uscito dal distruttore, sembra una figata, voi potete lanciarvi in picchiata con lo spadone sulle bestie, avete tutti gli attacchi caricati, avete molta più possanza nel combattimento, porca troia, fateli fare a qualcuno che li sa fare i gameplay di questi cazzo di giochi. Io ho fatto un paio di video a riguardo e da quel poco che si è visto si sono fatti furbi nei gameplay, nei trailer, inteso che hanno fatto, raga, sapete Dragon's Dogma 1? Ce l'abbiamo, però ci sta anche tanta tanta roba nuova, come ho visto parecchia fisica, interazione, le abilità, le vocazioni, ho visto che l'hanno migliorata alcune, quindi sì, secondo me il core sarà quello, ma ci sarà anche tant'altro. Anche a livello di storia, di lore, che perché Dragon's Dogma 1 ce l'aveva la sua piccolissima storia e soprattutto la sua piccolissima lore è anche molto interessante, però moriva lì. Cioè il vedere, che ne so, le persone vecchie per il paese, per gran storia che ti fanno, eh io mi ricordo quando avevo sei anni il duca è rimasto uguale e l'Urdre con tutte quelle robe. Però appunto sarà molto sicuramente un cross tra Dragon's Dogma 1, Dragon's Dogma Online migliorato, ma anche il fatto che hanno riaggiunto tutte le classi Dragon's Dogma Online, ci sarà di cose, ma poi preparatevi perché quando lo porteremo in live ovviamente non si porta dal new betto, la si porta da persone, è tipo Sabaku che gioca a Dark Souls 2, cioè preparatevi. Ripeto, il fatto che Dragon's Dogma 2 sta passando molto come uguale, allora in realtà ho sentito anche delle cose che mi hanno fatto incazzare, cioè ho sentito persone dire, ah grafico uguale a Dragon's Dogma 1. Ma si ricominciano con queste cazzo di robe che dicono che mi triggerano l'anima di madonna, a parte che proprio a livello di bitrate ogni video di Dragon's Dogma 2 è smolecolato, non ho capito perché, ma devono dare quella cazzo di demo, quel cazzo di gameplay in mano a qualcuno che sa giocare a quel gioco e soprattutto non gliela date in giapponese, già è un puttanaio, poi mi ritrovo anche i menu in giapponese il casino. Direi che la capito quale vuol dire essere scordati come Xbox e PlayStation 3, sì, ma perché lo sai quale è il fatto? È che molte persone in realtà loro si ricordano Dragon's Dogma 1 come la remastered. Cioè raga, il Dragon's Dogma che voi giocate adesso, Dragon's Dogma Dark Harisen, non è Dragon's Dogma, è la remastered. E' come se tu parli di Dark Souls o Dark Souls Prepare to Die Edition. C'è stato quello che è uscito tot anni dopo con l'upscale delle texture, perché con la remaster appunto c'erano i DLC con le texture per le texture in HD. Cioè, parliamo, ma poi stiamo a parlare, raga, ma delle re-engine di Resident Evil 4 remake. Come fa a essere uguale a quello del primo? Dio madonna, per quanto resista, eh. Ho scoperto, ma, per molte persone che mi hanno detto sta cosa e poi hanno installato i mod 4K, le illuminazioni, Air Shade. A me stai a via per il culo. È come quelli che... Ma no, ma guardate, Skyrim c'è ancora la grafica di Cristo. C'hanno il modpack 4000 mod. Dio madonna. C'è ancora la grafica di Cristo.